Ci troviamo al Nuovo di Via Olimpia, oggi è lunedì 19 febbraio 2018, per il campionato provinciale categoria giovanissimi, giocheranno fra pochi minuti alle ore 15 la Virtus Castelfrentano contro Chieti FG 1922, il Chieti giocherà con la classica nero verde, qua ci sono il blocco che partiranno dalla panchina, oggi la panchina è un po' più corta in quanto ci sono delle assenze in prepiste pure per malattia, questo è il blocco dei titolari, partirà con numero 1 Ucci, Daniel, numero 2 Di Donato, Federico, il 3 Nicola Tenaglia, il 4 c'è D'Angelo Nicolò che oggi è capitano, 5 Manuele Caporale, 6 Di Fresco Franco, 7 Ramondi Alessandro, 8 Riccardo del Bello, 9 Larnè Emanuele, 10 Luca Rulli e 11 Simone Pellegrina, Simone Pellegrina partirà, giocherà attaccante in quanto c'è stata una definizione all'ultimo minuto di Alex Maramieri Stanno riscaldando, c'è il mister Giovanni pronto, la panchina e il Chieti FC 1922, signore e signori alla prossima ripresa con le squadre che entreranno in campo.